Il Rizzone dopo essersi sborcato tra le mura amiche cerca continuità di successo in esterna mentre il Sasso Maggiore attualmente in zona rossa vuole tirarsi fuori dalle sabbie mobili Pronti e via lo United passa, tira il giro dell'ex Rimini Ferrara per lo 0-1 ospite che suscita gli applausi del pubblico locale presente in tribuna centrale Con una partenza dal basso a cura dello United il Sasso Maggiore recupera palla all'avversario e si porta alla conclusione con il suo numero 9 Mingiano, Pezzolato fa buona guardia Dalla distanza il portiere deve ripetersi su una sventola a cura di Pedrelli Dal conseguente corner Morigoni arriva al pari ma l'arbitro annulla per un intervento irregolare a cura del numero 3 Da calcio piazzato Orlandi sbuca di testa per il pareggio locale 1-1 e questa volta il gol viene convalidato Fase di sbandamento per lo United che regala palla agli avversari Mingiano ringrazia e Pezzolato deve rifugiarsi in corner onde evitare pericoli maggiori Il tiro a giro di Berti poco dopo si perde a lato La replica dello United affidata al calcio piazzato di Ferrara pallone fuori di un nulla In velocità lo stesso Ferrara presentarsi dinanzi a Pezzolato Il portiere neutralizza il primo tentativo Sulla ribattuta l'ex Rimini accomoda la sfera sul piede di Padovan per il nuovo sorpasso ospite 1-2 In contropiede si aprono gli spazi per i riccionesi Colombo porta avanti palla, mette al centro per la corrente Lordi Panez pallone in bocca al portiere Il centrocampista si rifà nel corso della ripresa Quando sul suggerimento di Padovan inventi il tiro a giro per il tris riccionese Che suscita gli applausi dei compagni di squadra della panchina Ma anche di mister Gori La replica è affidata al duo Berti-Santiago Coppezzolato che trattina in due tempi la sfera Riccionesi vicinissimi a poker Ma Ferrara spara alle stelle Qui invece D'Antoni a rubare palla e tempo agli avversari Ma la sua conclusione sbatte sul legno superiore della porta Difesa da Galletti Nel finale due occasioni per i padroni di casa Berti spedisce la sfera sull'esterno della rete Mentre Santiago in velocità va via agli avversari Ma dinanzi a Pezzolato Spara addosso a quest'ultimo Con il portiere pronto a rialzarsi Per sventare anche i tapin di Sumarò Termina qui la gara con il Riccione Che si impone per tre reti a uno Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti